Musica E' un buon buon youtube, mi sono indietro e benvenuti qua in questo nuovo fantastico video Oggi sono qua sopra Apex Legends E' Apex soltanto o Apex Legends? No Apex, Apex Benvenuti su Apex, un gioco fantastico dove in pratica dovremmo sfidarci Come un normalissimo battle royale a differenza di Fortnite E vedremo di essere abbastanza bravi perché io non so giocare Anche se in realtà ho fatto qualche chiede ieri nella live di video Con me insieme abbiamo... Oggi abbiamo con me Carbonara Salve E Niki Salve Che giocheranno con me a questo fantastico gioco Perché avevo voglia di registrare Apex dopo la partita di ieri Quindi let's go, io mi metto pronto e voi mettetevi pronto e let's go Ah già è vero, Carbo ha iniziato da poco a giocare a computer perché Signore e signori, adesso Carbo ha il computer nuovo No, attenzione, ho tritato un bit Adesso basta 64 bit Adesso mi ha tritato un bit Bravo, console player, Carbo non è più console player finalmente Non sono ancora dentro il console player Non sei ancora dentro però non fuori Dentro È un'importante Dovevo scegliere io Frizz No, io la 5 la compro per la retrocompatibilità con la 4 perché... Persona 5 The Royal, vuoi mettere? Ah! Ma io dovevo provare la persona 5 Non ho più lontano, più lontano Niki che ci sente, ci sente, ci sente, ci sente Qui nel ponte, qui nel ponte che nel senso roba Dica ma Niki non so fare il Jam Master Appunto That's not too Lascio stare Score, 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 come 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 Because questi due non è che ma no mi hanno rapito è diversa una cosa Eh Niki vuoi giocare? Sì, rapito No in realtà è... Niki eh vieni ti mi serve Tu senza nemmeno dirgli dovevamo giocare AppX No no, ci servi Tu tu Dai Niki devi capire fuori che io metterò sotto in descrizione il tuo Twitch Così almeno arriva più gente come ultimo Nice No, non devi per fuori Oh, testa, testa Dove, dove? Ecco, vedo, vedo 13 Oh, fuck you, motherfucker Vai, 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 vai Sì, ma credo che ci sia qualche su compagno con vicino Qua c'è uno scuro Qua c'è uno scuro Eh, mio, 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 mio E qua lo zaino, però Ok, niente Ok, niente Ok, allora Non vedo Nesta o no Quindi possiamo andare avanti Allora, non siamo Siamo messi bene a vita Cioè, quindi, siringhia Dopo le leggende Però siamo messi male per scudi Siamo messi male in difesa Già Eh, eh E siamo attenti, però Dove, beh, se questo c'era una cassa Su tre casse Ok Mirino? Oh, acceleratore ultimate Prendo io che Che tengo la ultimate bot Ma poi questo è anche un buon punto Perché ci sono le casse Ci sono le rocce A poterci Sperate, aspevoi Che ti vengo a dare io Con il robot No, ti do il robottino Ti do il robottino Che è meglio Ecco Io non li vedo Non li vedo Ti vedo in trattate In trattate In trattate In trattate Sono giù là Ok, ok Gli ho fatto una sessantina di danni Cazzo Ah, dietro, 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 dietro Nice, 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 nice Stanno qua vicino Mi sa Sveccia Giro il robottino Giro il robottino Eh, merda, un cecchino Eh, regà, dobbiamo tirare Correre, corre Carbono, non ti cura Ah, spero, non erro Non ho robottino Cazzo, mi ha fatto un infarto sto coso Dai, ragazzi Stiamo giocando bene Sì, dai, stiamo Stiamo andando bene Non diciamo quella frase Che sennò Stiamo andando semi bene Però 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 Andiamo Passiamo da qua Che almeno non c'è cecchino Invece di curarti Il robottino che abbiamo un attimo Ok, ok Quindi vieni, 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 vieni Dove, dove, dove Qua, 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 qua Ok Aspetta, qua ci sono delicati Guarda che manca pochi secondi, ragazzi Vabbè, dai Prendiamo il drop e corriamo Ok Eh, scudo ausiliario Io ho preso scudo ausiliario Prendete lo scudo lì Anzi, no, prendete A me, se c'è una corazza Datemela per favore Via, 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 via Qua, casco, per chi lo vuole Quelli che abbiamo killato prima ci servivano Qua ci hanno accelerato degli ultimi Mi sa, no Caricatore aumentato Per le munizioni piccole Eh, no, no, io non ho munizioni piccole Oh, oh, oh Dove, 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 dove 88 Uno, uno muore tra pochissimo Uno morto Cazzo No, raga, dai, uno Guarda Uno, uno, uno Mi manca l'ultimo Carbo È là, è là Attento Sì, stai Hai visto, hai visto No Cazzo Cazzo Mi avevo fatto malissima Ah, ma c'è lo scudo Mi manca il casco Ah, grazie, vorrei quella Che cos'è questo? No, pezzo di merda Lo volevo io Mia Cos'è? Ah, qua, roba viola Mia, 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 mia Vai, appunto Vai da questo, da questo, ragazzi Correte, 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 correte Correte, correte, correte Correte Anch'io ti voglio bene Oh, via, 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 via Ciao Abbiamo C'è gente, c'è gente C'era una cassa viola Cos'è trovata? L'ha trovata Da merda No Cazzo Cos'è trovata? Cos'è trovata? Merda Cos'è trovata? È la mia penina L'R99 Calcio Calcio standard viola Nice Ah calzo standard per chi viola è blu Chi viola è blu Chi vuole è blu No ce l'ho già Quindi mi sembra ciccio quando fa così Let's go ragazzi Let's go Alcune mettete ragazzi Alcune mettete ragazzi benvenuti in questo nuovo fantastico video su Epix Vai Corri Cazzo mutemi fuori perché ho saltato due volte Mi ha fatto la Ok andiamo inizi a questo Da questi ragazzi Da questa 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 Io non lo vedo Io non lo vedo Voi lo vedete Sì laggiù No carbo è fatto una minchia Carbo 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 no 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 carbo Carbo car Giù giù stai giù stai giù Ma che cazzo vuoi ma fammi fare la tripla Che l'ho già buttati giù due Ma cazzo Cagamina che si è Ah ok Ecco Attenti ragazzi Vieni qua 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 Ce lo fai Ce lo fai Sì 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 No 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 C'è chi no vaffanculo Vai Oh 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 Cazzo Eh uno puttata terra ce n'è un altro Eh pusciate Eh pusciate Ma merda Ma porco Fatto E ti voglio vicargli anche oggi E niente Io l'ho buttato giù Abbiamo bisogno di Matt Per vincere Ma che cazzo vuoi ma che ho appena fatto una tripla Porco due Cosa Non ho fatto un cazzo te lo giuro su dio Ok abbiamo Ok siamo nella merda Non è che magari l'ho lanciata io La madonna Carbo Carbo lasciami un po' di munizioni Senti quelle là rossi Ah venite qua Per chiunque voglia Ho un mirino Da cecchino Per chi vuole Tante casse da usurpare Ma vaffanculo Carbo è come lo Stato Italiano Casse Oh ho trovato la P-20-20 Con l'otturatore viola Buon regà Mia 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 Ma 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 Come lo rubai le munizioni Ti odio Stavo avendo io l'infarto Grazie Carbo ricordati queste parole Mi vendicherò Ricordati di me Ricordati di me Ehi that's a lot of damage Ehi that's a lot of damage Mio 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 No mio 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 Non si ammazzano per uno scudo col porio Di quel vivero quando io l'ho fottuto Per avere quello viola Vaffanculo Ah chi vuole Quasi sono vari shotgun Uno zaino Che c'è? Io pensavo di trovare Che cazzo ne so Hai trovato la cazzo Ma che cazzo Ma che cazzo Ma davvero me Ci mettiamo in combutta contro indie Ci mettiamo in combutta contro indie Siete persone orribili Carbo Contatto con versaggio Carbo Carbo Ah non è realtà E scaricarsi porno in 4k Aia Dietro dietro Aia Aia Dove No Ma dai L'udopatia portami via Ancora Ma la smetti Tartato di merda Sto facendo come pepone 3393 che facciamo i video Si gratta e vincere Non rompe il cazzo Per fare qualcosa Che idolo Non andrà mai bene Cosa? Oh merda C'è un dito C'è un dito Ah ok Odiavolo C'è un tizzo Oh tizi 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 Troppa gente No Odiavolo Io mi sono preso Le munizioni Venite 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 Ma non abbiamo niente I pugni I pugni I pugni I pugni Nelle mani Odiavolo Eh mi sa che mi stavo sparando Aia Dentro Timi Kimi 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 Stai 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 Nel Qua Sicuro No Mi serviva Per la Dove Dove Sta Dove Sta Dove Sta Oh Gli ho Stolto Lo Scudo Pezzo Di Merda Affroga Andiamo Cazzo Occhio Mi sa che ce n'è un altro No no Ma sa tutta la squadra Coprimi 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 Oh yeah Motherfucker Ma poi Ma sai carbo Che se tu muori Il tuo account Steam Poi viene tolto E non sto scherzando È stato fatto Veramente Sì Se tu muori Tutto quello Che muori In un certo periodo Di tempo Di Di La peffa C'è Muori E Ma C'è no Dammi Quella cazza Di Cassa Dammi Quella Fattuta Cassa Oh Mi 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 Tutto il Lato Di Merda Dami La mia Fattuta Cazzo E E Meglio Che non giochi Più Ad Apex Perché mi Stai Sembrando Un Mimbo Forte Mi Mi devi capire fuori che io faccio i balletti cioè mi hanno pagato per fare i balletti di Fortnite quindi voglio vedere davvero uno dei creatori di un server di SCP mi ha pagato per dirmi quando avrai la Fursuit fai il balletto standard di Fortnite mi ha pagato solo due giochi due giochi da tre centesimi da un euro poi lui mi ha pagato dopo c'è Carlo tipo eh no io ho pagato di più quindi io ho fatto la sciamme no 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 anche poi perché non registri una volta ogni tanto di BD perché adesso lo registro perché mi è obbligato perché l'ha preso anche Lillia adesso come Lillia ha preso di BD Lillia le ha regalato di BD no no a Lillia le ha regalato io non li ho regalato ancora voler regalare qualcosa un giorno ancora non lo so tu quando registri mi chiami e giochiamo a DBD e non è una richiesta è un obbligo capito? è un obbligo è diverso una cosa è un obbligo nel culo ci siamo capiti? ci siamo capiti? si signora come si signora? si signora sei lifeline? è lifeline si signora ma c***o oh oh gente? gente mi si è puntato sto controllo diavolo eeeh sto giù vai 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 no me ne frega me ne frega non me ne frega non me ne frega vai corri 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 usate lì ah di sinistra c***o e diavolo no dai dai come on dai come on vabbè almeno io ho fatto due kill dai ho fatto due kill che partite di merda ho fatto ho fatto una kill però dai almeno almeno il cromosomi prima facciamo uno spacchettamento epico di nuovo adesso avrà il coltello ludopatia monello spacchettamento epico ragazzi guardiamo cosa abbiamo appena avuto abbiamo avuto un comune metallo creazione raro skin arma per la la devotion credo sia la devotion si e una banner raro però no è lavo che lavo che lavo ho preso questo qua artico mi piace i like it e questo mi piace e questo mi piace ok fine allora ragazzoni mi spero di essere questo video che ci ha piaciuto su Apex spero che questo poi sta registrando si è registrato per questo si che me l'ha registrato ok quindi allora dai dietro ci vediamo alla prossima se questo video è piaciuto ho lasciato una bella zampata se mi piace se volete salutare voi se volete salutare voi e noi vediamo di ritrovarci la prossima volta i like it e noi vediamo di ritrovarci alla prossima video oh oh